Il quotidiano Ipsoa. Come essere aggiornati quotidianamente sulle ultime novità? Il quotidiano garantisce l'aggiornamento tempestivo sulle principali novità normative di prassi e giurisprudenziali con il commento dei più autorevoli esperti. È possibile accedere al quotidiano tramite il menu della banca dati, le ultime news pubblicate in home page, la ricerca a testo libero. Selezionando News dal menu si apre la home page del quotidiano. La sezione News della home page contiene le ultime novità in ambito fiscale e amministrativo, societario e di bilancio, con un taglio informativo chiaro e immediato. Facendo una ricerca a testo libero della home page è possibile accedere alle notizie del quotidiano che contengono le parole cercate. Basta cliccare sulla barra di sinistra News e poi sul pulsante azzurro Quotidiano. Per visualizzare le notizie più recenti occorre ordinare i risultati in ordine cronologico. Potrai così consultare le notizie, gli articoli e le segnalazioni della rassegna stampa più recenti sul tema cercato. Durante qualunque ricerca in banca dati, consultando l'archivio quotidiano potrai verificare se sul tema cercato è stato pubblicato qualche aggiornamento, se ci sono state novità normative o di prassi o qualche nuova sentenza, se è uscita qualche notizia che non hai colto. BigSuite è lo strumento che ti permette di essere sempre aggiornato.